Di fronte allo scenario appena descritto origine delle proteste messe in atto ieri in Consiglio Comunale è passato in secondo piano lo svolgimento dei lavori all'interno dell'Aura D'Alfino. Votazione all'unanimità sulla riattivazione della consulta ambientalista fortemente voluta dalla consigliera Maugeri e mozione di Roberto Carbone del PD sulla condanna di tutti i tipi di oppressione religiose. L'opposizione ha poi chiesto di anticipare il punto all'ordine del giorno sulla ritipizzazione di un'area a verde pubblico nella zona di Santo Spirito. Se ne sarebbe discusso con l'assessore Sannicandro se fosse stato presente in aula. Si apre una nuova stagione per il porto di Bari sia per il flusso croceristico sia per le infrastrutture. Scopriamo le novità nel servizio di Alessandra Bucci. I prossimi quattro anni del porto di Bari saranno all'insegna dello sviluppo infrastrutturale. Parola del presidente uscente dell'autorità portuale Franco Mariani, nominato commissario straordinario dal Ministero dei Trasporti d'intesa con il governatore Vendola. Preludio alla riconferma di Mariani per il prossimo quadriennio, ma non manca una novità anche sul fronte degli approdi. Già nel 2011 il porto di Bari ospiterà la più grande compagnia croceristica, la Royal Caribbean. Nel 2012 sarà invece la volta della grande ammiraglia della MSC, come annunciato ai nostri microfoni, Franco Mariani. 24 accosti della Royal Caribbean con questa nave da 317 metri con 6.000 passeggeri. Ed sono passeggeri completamente diversi da quelli a cui siamo abituati, costa MSC che sono molti europei, molti italiani, quindi sono sostanzialmente americani. Sono invece già iniziati i carotaggi sul fondale per la costruzione di un nuovo molo da 350 metri. Entro tre mesi al massimo l'ARPA consegnerà i risultati delle analisi seguite sui fanghi prelevati dal fondale, rilievi necessari per capire se poter riutilizzare i sedimenti oppure smaltirli secondo procedure ben definite. Solo dopo si potrà iniziare con i lavori. Un molo di 350 metri sulla darsena di Ponente che ci potrà permettere quello insieme alle alte banchine di ricevere anche contemporaneamente 4-5 navi da crociera. Si è parlato del porto al molo San Cataldo, il porto che potrebbe ospitare i mega yacht. È un progetto ambizioso però siamo ancora in una fase embrionale. Sì, siamo nella fase di avvio del progetto preliminare. Lì abbiamo già fatto un protocollo d'intesa con la regione, con il comune, con la provincia e con la fiera del Levante perché essendo in quella posizione il molo San Cataldo si presta molto bene in relazione con la fiera del Levante e anche ad ospitare una fiera nautica importante che sarà seconda solo a quella di Genova. Quindi avvieremo il progetto preliminare e poi decideremo se fare l'opera a noi e dare in concessione con gara o se addirittura proporre un project financing ai privati. Piena conferma delle rotte di network e prima assoluta del collegamento Catania-Bari oltre al quinto volo giornaliero tra Roma e Catania dal lunedì al venerdì. Sono le novità di Blue Express.com, il marchio low cost di Blue Panorama Airlines per la stagione estiva. I voli Catania-Bari partiranno dal 28 marzo per tre giorni a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi cerimonia di commemorazione di Araldo di Crollalanza, 25 anni dalla morte. Alessandra Bucci. Un uomo politico che ha lasciato un solco profondo nella storia della nostra città e dell'intero paese. A 25 anni dalla scomparsa, Bari ricorda il senatore Araldo di Crollalanza, deposta una corona dell'oro nei pressi della statua a lui dedicata sul lungomare nell'area verde di Piazza Eroi del Mare. L'uomo della pacificazione e non della rottura, una figura simbolo del mezzogiorno che considerava quella meridionale una questione nazionale. Araldo di Crollalanza già ai suoi tempi ha offerto l'immagine di un sud che non può affidarsi all'assistenzialismo ma che deve diventare protagonista. Tema oggi più che mai attuale come i segni della sua opera che hanno fatto la storia di Bari come ricorda suo nipote Enrico Fronticelli. Segni della sua opera che sono tutt'oggi presenti, dalla fiera all'università al lungomare, quindi opere e fatti che lo hanno contraddistinto e che tutt'ora sono presenti in questa città. È stato definito un pacificatore, non un uomo di rottura e ha sempre considerato il meridione una chiave non assistenzialista come un argomento molto attuale di cui si dibatte anche oggi. Si è riuscito a invertire la rotta oggi? Sicuramente già lui ai suoi tempi ci ha sempre provato e ha sempre provato, ha sempre dato tantissima fiducia a questa esplosione, a questa progressione del sud. I tempi credo che siano maturi per riuscire a fare attualmente questo slancio in cui tutti credo che devono credere e sperare. E passiamo ora alla cultura, all'orchestra sinfonica della provincia di Bari, al Teatro Forma della Fondazione Orfeo Mazzitelli, per un concerto dedicato a Von Weber, San Sin e Aiden, diretto dal maestro Michele Nitti e con la solista del violoncello cinese Tina Guo. Ad aprire la serata l'opera romantica di Oriante, overture opera 81 J291 di Von Weber, di San Sin, è stato invece eseguito il concerto numero 1 in La minore, opera 33 per violoncello e orchestra. A chiudere la sinfonia in mi bemolle maggiore, numero 103, rullo di tamburo di Aiden. Questa sera la replica alle 20.30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, in piazza Rumita, al quartiere San Paolo di Bari. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, previsti piovaschi e schiarite, vento da nord-ovest con possibili raffiche fino a 14 km orari, mari mossi e temperature comprese tra i 9 e i 12 gradi. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo i nostri siti telebari.it, radiobari.net. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Grazie a tutti.